Per la prima volta una prova del campionato siciliano di rally passerà anche tra i luoghi del Belice, quelli distrutti dal sisma del 1968. Si tratta della prima edizione del rally Valle del Belice che si svolgerà il 25 e 26 ottobre in uno scenario suggestivo e con al via numerosi appassionati provenienti da tutta la regione. Si sa già che i piloti dovranno percorrere 222 km con 60 km di riprove speciali, anche tra le strade dei ruderi dei centri di Velti dal sisma, ossia Gibellina, Partanna, Poggio Reale, Sala Paruta e Santa Ninfa, i centri dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice. Il rally, come detto, nuova tappa del campionato siciliano, è volevole pure per il circuito relativo alle auto storiche rally ed è organizzato dall'automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna. In quei luoghi colpiti dal sisma, osserva Giovanni Pellegrino, presidente dell'automobile Club Trapani, sarà possibile ascoltare il rombo dei motori, facendo ritornare in vita interi paesi. Dalle auto passiamo alle moto. Campionato siciliano di Enduro Sprint. Qualche giorno fa a Dattilo, nel Trapanese, dopo la lunga pausa estiva, si è tenuta la quinta prova del circuito regionale, targata, come sempre, Axi Motorsport. 193 i piloti al via, con organizzazione affidata al motoclub Le Rocce. Tra i tesserati, per conto del motoclub Giovanni Maurello di Lucca Sicula, anche i giovani piloti Vincenzo e Giovanni Cusumano di Villafranca Sicula. Vincenzo Cusumano, nonostante qualche problema meccanico, è riuscito a salire sul podio conquistando, su quattro tempi, riuscendo al tempo stesso a portarsi in testa al campionato regionale di specialità. Giovanni Cusumano, invece, si è piazzato in seconda posizione nella categoria 50. Per tutti gli appassionati di Enduro Sprint, la prossima gara è in programma domenica 13 ottobre a Bisacquino, con organizzazione del motoclub Valle del Socio.